Ciao, mi chiamo Ludovico, benvenuti ad iLac. Oggi ti racconterò tutto a proposito del programma per adolescenti proposti da iLac. Lo sapevi che iLac è la scuola d'inglese più grande e premiato in tutto il Canada? Proprio così. Ogni anno, grazie alle numerose recensioni positive, oltre 25.000 studenti scelgono iLac. Gli studenti di iLac vengono da ogni parte del mondo e appartengono a diverse fasce d'età. Proprio che a tutti piace studiare inglese. Ecco perché abbiamo creato programmi dedicati interamente agli adolescenti da 15 a 18 anni in modo che i nostri studenti più giovani possano studiare insieme ai ragazzi della loro età. Il programma per adolescenti di iLac aiuta gli studenti a migliorare e consolidare rapidamente le proprie abilità in inglese ed è basato sul programma per adulti rinomani in tutto il mondo. Imparare l'inglese, divertirsi e costruire il proprio futuro, queste sono le esperienze che iLac offre. Incontra nuovi amici da tutto il mondo e partecipa alle attività recreative pensate a posto per te. I corsi d'inglesi, offerti da iLac durante tutto l'anno, sono pensati per adattarsi al tuo stilo di apprendimento più dinamico. Potrai scegliere il tuo corso e deciderne in carico in base ai tuoi obiettivi e ai tuoi bisogni. Partecipa ai nostri eventi di socializzazione pensati a posto per i nostri studenti più giovani, il tutto rigorosamente al call free. Tutti gli studenti di iLac riceveranno in regalo un abbonamento alla palestra. Stai pensando di prendere un laurea e un diploma in Canada? Per gli studenti del programma Pathway, iLac organizza tour nell'università e nei college vicini. Ma parliamo delle città protagoniste. Come vive a Toronto e Vancouver? Toronto è la città più grande del Canada con una popolazione di 2.800.000 abitanti. Situata tra New York, Chicago e Montreal, Toronto è la capitale economica e culturale del paese. Con le sue 4 diverse stagioni e oltre 300 giorni di sole all'anno, Toronto è la destinazione preferita per cibo, shopping e bellezza artistica. Vancouver è considerata uno dei luoghi più vivibili al mondo ed è un importante centro di produzione cinematografica del Nord America. Stanley Park, un'oasi urbana più grande del 10% rispetto al Central Park da New York, ospita alcuni degli alberi più grandi al mondo. Vancouver è presente il clima più mite del Canada e offre molte attività all'aperto come trekking, ciclismo e sci. I campus moderni di iLac sembrano delle boutique creando un ambiente di apprendimento accogliente che allo stesso tempo è amichevole e caloroso. iLac, essendo una delle scuole inglese più variegate al mondo, ospita studenti che prevengono di più di 90 paesi diversi. I programmi di iLac sono stati classificati per diversi anni consecutivi da numerose organizzazioni come i migliori in Canada. Imparare l'inglese nel modo che preferisci personalizzando i tuoi corsi sviluppati in partnership con Oxford University Press. Il nostro programma pluripremiato University Pathway ti dà la possibilità di essere ammesso in uno degli 85 college e università partner senza dover sostenere l'IETS e il TOEFL. Ad iLac ci prendiamo cura dei nostri studenti in ogni momento della loro esperienza. Dal momento in cui veniamo contattati il diploma, il team di iLac ti sostiene durante tutto il tuo percorso. Grazie a tutti.